Pronto Raffa Tern? Per favore mandatemi qualcuno. Grazie Raffaele, lei è stato molto preciso e professionale. Grazie a lei passeremo una fresca estate senza consumare troppo visti i prodotti a risparmio energetico che ci è installato. Francesco Fontana, 32 anni, è il nuovo difensore centrale della Nocerina. Ieri pomeriggio l'ufficialità dell'ingaggio. Fontana arriva dall'Alba Longa dove l'anno scorso ha realizzato anche tre gol. Un curriculum di tutto rispetto per il calciatore siciliano. Durante la sua lunga carriera il neo-rosso-nero conta 263 presenze in Serie D. Fontana vanta anche 25 presenze in Serie C con Andrie Picerno, squadra con la quale ha vinto il campionato di lettanti nella stagione 2018-2019. Fontana si unisce in difesa ai vari over Garofalo, Mazzeo e De Marino. Ora l'attenzione si sposterà sugli under. Da regolamento dovranno giocare obbligatoriamente un calciatore nato nel 2003, uno nel 2005, due nel 2004. Intanto l'Istituto Polidiagnostico d'Agosto sarà il polo sanitario di riferimento per la Nocerina nella prossima stagione agonistica. La struttura metterà a disposizione le proprie competenze professionali per seguire i calciatori molossi. La prossima settimana sono attese le visite mediche in concomitanza con la partenza per il ritiro di Mercogliano.